Ben trovati alla puntata settimanale di Il Salotto di Wilson Hills, stasera una puntata dedicata alla formazione, infatti con noi ci sono due ospiti, tra cui Eugenia Capanna che è CEO della scuola MTS School di Monza, praticamente in autodromo a Monza, e poi una delle allieve del reparto motor racing. Adesso andiamo subitissimo ad aggiungere sia Eugenia che Aurora, intanto saluto tutti coloro che si stanno collegando insieme a noi, colleghiamo subito Eugenia che vedo essere online, vediamo se riusciamo subito a inserirla e fra poco introdurremo anche Aurora Procuranti che è appunto l'allievo. Ciao Eugenia, benvenuta! Ciao Anna, ciao! Grazie per l'invito! Prego figurati, per noi è sempre un grandissimo piacere. Noi abbiamo avuto modo già un po' di conoscerci tempo fa, ormai era il lontano ottobre 2020. Mi ricordo, sì sì! Buola! E con piacere adesso ti ho invitato nel mio piccolo salottino rosa, che è appunto quello di Wilson Hills, e adesso andiamo subito anche a inserire Aurora con noi per iniziare questa bellissima chiacchierata. La vediamo, eccola, è già qui, praticamente era già online, vediamo se riusciamo subito a inserirla. Benvenuta Aurora! Ciao, grazie! Benvenuta Aurora Procuranti che è appunto allieva del corso Moto Racing. Sì. Come stai, tutto bene Aurora? Sì sì sì, grazie! Bene, bene. Allora, iniziamo un po' questa nostra bella chiacchierata partendo dal CEO di MTS, ovviamente. Partiamo da te Eugenia, un po' diciamo andando indietro per arrivare appunto a questa bellissima idea che sta avendo sempre più successo ormai da parecchi anni. Praticamente una presenza fissa nel motosport permette a un sacco di ragazzi e ragazze come Aurora di fare formazione adeguata per potersi inserire nei team, ruote coperte, ruote scoperte, dappertutto insomma. Anche moto. Anche moto, insomma moto, engineering, partiti in carbonio e tutto, diciamo. Ci sono corsi per sbizzarrirsi all'MTS. Ma partiamo dal fatto che tu, Eugenia, insomma, nasci anche come pilota, team manager, direttore sportivo. Insomma, ne hai fatta di gavetta al motosport. Di tutto, di più. Quando si dice la passione, no? Sì, è una vita dedicata al motosport. Ho iniziato correndo in macchina, poi sono passata dall'altra parte del muretto, purtroppo, dico sempre, no? Perché, insomma, vedere gli altri che corrono dopo che hai corso è impegnativo, è faticoso. Non è facile. Non è facile. Bisogna un po' abituarti, ecco. Ho fatto tanti anni team manager, nel frattempo ho insegnato guida sicura e guida sportiva per varie scuole. E fino a quando poi ho avuto questa malsana idea, bellissima idea, di aprire questa bellissima scuola che ormai ha 12 anni, che è la Motorsport Technical School. Eh sì. Infatti, prima di partire appunto con la MTS, che è stata veramente un'idea geniale, poi ambientata ovviamente in quello che è il Tempio della Velocità, quindi l'autodromo di Monza proprio racchiude tutto quello che è proprio il sogno e avere formazione dentro l'autodromo è penso la cosa più bella, poi lo chiederemo ad Aurora. Tutto è partito anche da un corso di guida sicura in un giornale, Eugenia. Sì, brava. Che memoria che hai. Complimenti. No, in realtà non era proprio un corso di guida sicura, era un corso di guida da rally. Ah, del tour. Sì, sì. Avevo mandato il tagliando per partecipare a questa estrazione, perché c'erano solo 20 posti e sono stata estratta, sai quando si dice il destino, no? Sono stata estratta e sono andata a fare questo corso di guida da rally con dei rallysti importantissimi. Mi ricordo che c'era Rudy Dal Pozzo, che lui veramente è un mito, è stato navigatore ufficiale di Opel, ma c'erano veramente dei personaggi di grande valore, di grande spicco. E niente, poi ho fatto anche il miglior tempo, mi ricordo, un po' scherzando. Non solo ho sterrato, ero già un po' matta, perché per strada ero pericolosissima. Mi andavo in giro con una matta appena presa la patente, ma vabbè. Il piede piuttante per un pilota è fondamentale, direi. Sorvoliamo su questo, però vabbè. E quindi niente, sì, in realtà è partito tutto da lì, perché poi la rivista, non so se posso dire il nome, era autosprint. Mi ricordo quei tagliandini, me li ricordo. C'erano delle belle occasioni, io dico, ma bei tempi, bei tempi. Tra l'altro in Sardegna, quindi nemmeno in un posto stigato. Una settimana in Sardegna a guidare, ecco, non potevo chiedere di più. E niente, hanno pubblicato i risultati e poi da lì, in realtà poi ne ho vinto un altro su un'altra rivista un mese dopo, che era in pista. Sono stata tra le migliori sia nel primo che nel secondo e poi mi ha chiamato un team per correre, quindi ho iniziato a correre così, un po' per gioco. Era destino, direi, era proprio destino. Ho dedicato la vita a questo, alla fine, ecco. Come diciamo che secondo me c'è stato anche un altro spartiacque, insomma, perché io sai che, vabbè, ti seguo, sono poi una grande fan di MTS, quindi comunque ti seguo particolarmente e so che c'è stato un momento nella tua carriera in cui hai dovuto rinunciare ad un'offerta. Sì, è vero. E poi, diciamo, un po' tutto si è risvoltato anche nell'idea di creare MTS. Sì, sì, ero incinta, ecco perché. Dovevo, mi aveva chiamato la Porsche ufficiale tedesca per seguire il team ufficiale Porsche, ero incinta, per carità, sono i figli prima di ogni cosa, sempre. E niente, ho rinunciato, però ho aperto la scuola, per cui, insomma, le soddisfazioni non mi sono mancate. Anzi, poi quando vedo i ragazzi che sono in Formula 1, in MotoGP, e li vedo magari anche in televisione, è una cosa per me incredibile che mi ripaga di tutto. Anzi, ti dirò che ho una ragazza, visto che stiamo parlando di donne oggi, che è appena stata assunta in Red Bull Formula 1 come ingegnere di pista. Che bella notizia, complimenti, complimenti alla tua aniema, insomma. Le facciamo le congratulazioni, spero che abbia modo di vederci. Eh, chissà, è in Inghilterra, sì, sì. Eh sì, direi che inizia un bel periodo di grandi viaggi per lei e noi ovviamente, vabbè, le facciamolo in bocca al lupo, poi ci sarà modo di farglielo arrivare direttamente. Senz'altro. È proprio bello, in effetti, poi vedere le grandi soddisfazioni. Prima di continuare con te, Eugenia, voglio introdurre un pochettino Aurora e chiederle, ti faccio una domanda che ho fatto prima, che ho inserito prima un po' nei nostri discorsi. Com'è trovarsi a, diciamo, avere formazione, prepararsi un po' per il proprio futuro in un ambiente come l'autodromo di Monza, Aurora? Beh, è bello, è emozionante. Sì, perché proprio ti dà l'idea di trovarti in pista, come poi si spera ovviamente di ritrovarsi. E quindi ti prepara già a sentire, anche la domenica ci sono i track days, quindi si sentono le macchine che sprecciano, c'è proprio l'aria da pista. Inizi un po' a, diciamo, a sentire quello che è il profumo e anche il rumore di quello che potrà essere la tua professione. Tu segui il corso Motor Racing. Motor Racing, sì. E come ti sei avvicinata a questo ambiente e da cosa è nata la decisione, ma vorrei un futuro in questo motorsport così appassionante? Ma, allora, io ho conosciuto un ragazzo quattro anni fa, che ha fatto poi MTS, che è un po' di anni fa, e quando mi disse di questa scuola, io già avevo un po' di, avevo la passione per il moto, eccetera, però non pensavo potesse diventare, diciamo, il mio lavoro. E ho conosciuto questo ragazzo che ha fatto MTS, quando mi ha detto che esisteva questa scuola, perché non era conoscenza, ho detto, no, non ci credo, voglio farla anch'io. E quindi ho aspettato, ho aspettato perché dovevo finire la scuola, eccetera. Io ho finito a giugno del 2022, quindi ho dovuto aspettare un po' di tempo e poi sono riuscita a entrare facendo le selezioni, sì. Ti sei lanciata. Infatti, la scuola MTS è dedicata a quelli che sono gli alunni, diciamo, che terminano le superiori e poi anche gli ingegneri che, appunto, terminano il triennio dell'università. Giusto, Eugenia? Sì, 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 sì. Esatto, giustissimo. Anzi, poi devo dire una cosa, devo dire che Aurora è bravissima, veramente. Ovviamente. Cioè, è un po', è bella col coltello tra i denti, eh. Si difende bene in mezzo a tanti maschietti, devo dire. Bisogna avere un po' di carattere per stare in mezzo a tanti ragazzi che ci sono. Senza dubbio, guarda, senza dubbio, assolutamente. Sennò, non so, ma in questo mondo, nel motorsport, è un mondo maschile. Quindi, insomma, bisogna avere un carattere forte, hai detto bene. Sì, i corsi sono, i corsi meccanici sono una sorta di corsi specialistici a cui si può accedere dopo le superiori. Mentre i corsi ingegneri sono, dipende perché poi abbiamo i data e gli ingegneri di pista. Per cui, mentre per i data si può accedere anche già dopo le superiori, per gli ingegneri di pista è consigliata la laurea triennale. Poi ci sono le selezioni, per cui durante le selezioni vengono richieste delle skill che solitamente appartengono all'ingegneria meccanica, sicuramente consigliato. Eugenia, poi tu infatti ti sei fatta questa domanda fantastica che poi tanti ragazzi, e anche io a mio tempo, quando ho iniziato tanto, tanto tempo fa, mi ero detta, ma questo fantastico mondo che io ho avuto modo e la fortuna di toccare per famiglia, come la maggior parte, come per la maggior parte capita, come si fa ad accedere? Chi vuole lavorare all'interno del motorsport? Che scuola deve fare? Penso che l'idea sia nata un po' così per te, Eugenia. Assolutamente, perché come te, anch'io avrei tanto voluto esistesse un MTS per poter entrare a lavorare nel motorsport, sarebbe stato più facile. Per carità, uno può fare qualsiasi altra scuola che sia dedicata al motorsport, non credo ce ne siano, in Italia ci sono solo noi, però magari all'estero. sicuramente aiuta, perché noi siamo un po' un canale di comunicazione diretto tra l'appassionato e la squadra corse. Una sorta di accesso, di porta d'accesso preferenziale, ecco, diciamo così. Ormai dopo 12 anni i team ci conoscono, abbiamo anche la fortuna di lavorare con delle case motociclistiche ufficiali e anche delle case automobilistiche, tant'è poi magari mi fa piacere raccontarti della partnership che abbiamo fatto, dell'ultimo progetto che abbiamo condiviso con i Yamaha. Faccio una parentesi, scusami, è una cosa molto bella, che è proprio pro passione dei giovani. Noi lavoriamo sia con Ducati, corse che ci supporta con, cioè ci ha dato una moto, comunque ci manda gli insegnanti, eccetera, ma soprattutto anche ultimamente con Yamaha, anche perché abbiamo aperto una nuova sede che è confinante con loro, addirittura dividiamo il capannone con loro, c'è un muro che ci divide. Quindi sono i vicini di casa, diciamo. Non potevamo che fare qualcosa di bello per i ragazzi. Loro hanno fatto partire questo progetto che darà la possibilità a quattro dei nostri studenti del corso Meccanici e due dei nostri studenti del corso Ingegneri di poter partecipare ad una loro formazione interna dopo il nostro corso e di poter poi proseguire creando una sorta di squadretta loro a Misano con piloti professionisti e poi rimanendo nella famiglia Yamaha andando a lavorare per le squadre ufficiali. Quindi questa è una cosa fichissima, penso. Un'ottima occasione, direi proprio un accesso diretto al motorsport. Ecco, quindi devo dire che sono contenta che sia i team appunto che le case credono nella formazione che facciamo, anche perché penso che si veda che ce la mettiamo tutta la passione che abbiamo io, ma anche tutto il mio staff e tutto il mio team di docenti. Per cui riusciamo ad avere delle percentuali di placement molto alte, perché ormai mi chiamano anche dall'estero per chiedermi i meccanici e gli ingegneri di pista, sia auto che moto. Addirittura stiamo lavorando con l'India adesso, con dei giovani ingegneri indiani, stiamo formando anche loro. Quindi figurati. La formazione supera, di MTS, supera praticamente le dogane, i continenti, tutto quello che ci possa essere. Sì, sì, sì. A proposito di dogane e posti lontani, c'è un saluto di Giulio Di Lorenzo. Ciao, oggi è venuto da Daytona, quindi ci stanno salutando direttamente da Daytona. Vabbè, lì, tra l'altro giorno adesso. Poi sono anche super impegnati in questo momento, perché sono alle prese, hanno fatto i test e poi si preparano appunto per la gara che li aspetta in questi giorni. Grazie. Lo saluto veramente con tanto piacere, Giulio. Addirittura, penso proprio il primo anno di MTS, il primo corso ingegneri ha fatto, quindi ha fatto una carriera incredibile e sono molto contenta per lui, perché è veramente molto bravo, lui come tanti altri. Ci sono delle storie emozionanti molto, molto belle nella vita di passione dei nostri ragazzi. Eh sì, perché poi quello che spinge appunto questa attività, tu e Eugenia lo sai da tanti anni, e Aurora lo sa. È la passione. E lo proverà, è proprio la passione, perché comunque si tratta di sacrificare parti della settimana molto ambite, che sono i weekend, e di conseguenza non è proprio semplice. Arrivo a te Aurora per chiederti appunto una cosa molto importante dal punto di vista anche femminile. come è stato, diciamo, dare questa notizia alla tua famiglia, al tuo gruppo di amici, insomma, hai mai sentito qualcuno che ti diceva, ma no, ma no, di motori tu non te ne puoi occupare? Allora, quando io dissi a un mio professore di, tra l'altro tecnologia e meccanica, quindi, diciamo, che volevo provare a entrare a questa scuola, io ci rimasi malissimo quel giorno perché addirittura usci piangendo, perché mi disse, tu non ce la puoi fare, perché non sei tra le più brave della classe, perché lì ci vanno solo persone laureate, che hanno voglia di studiare, eccetera, e metto, te non ce la puoi fare, devi fare l'università prima di entrare. E io magari in un prof ci vedi una persona più grande che ti sta insegnando le cose e speri comunque che ti dia una mano all'affrontare certe cose. Quando mi disse queste cose, io ci rimasi malissimo. Eh sì. Perché ho detto, cioè, se una persona così mi dice che non ce la posso fare, allora effettivamente magari non ce la faccio. E invece che cosa ti ha fatto cambiare idea? E invece, per fortuna c'era mia sorella quel giorno che non mi era venuta a prendermi, lei è una donna super carica, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, e mi ha detto, Aurora, qua devi spingere. E ho parlato con i miei genitori, insomma, di questa cosa che mi sono stati molto vicini, e mi ha detto, te provaci. Te provaci del meglio di te, poi succede che nella vita non riesci a fare delle cose e magari non passi, ci riproverai il prossimo anno. Sì, invece ce l'hai fatta le sue lezioni. Sì, infatti non vedo l'ora di tornare a scuola e gli ho troppo visto. Giusto, perché poi è anche quello, è anche quello un po' che sprona le donne nel motosport. A volte anche il sentirsi dire, ma no, tu non ce la puoi fare, ma no, è troppo difficile per te. E Eugenia, infatti, volevo un po' ricordare con te qualche episodio in cui, insomma, qualche sportellata in più la si poteva evitare. Invece? Ah beh, ne ho prese tante, gratuite. Quando correvo in macchina, proprio diverse. Perché, vabbè, poi, quando correvo io, un po' di tempo fa, eravamo veramente poche di donne. Io ero l'unica nella mia classe, che era l'N3, correvo con l'Alfa Romeo semi-ufficiale, per cui comunque avevo anche una macchina molto performante. Di conseguenza, io poi ero agguerritissima, andavo abbastanza forte. E per un, ai tempi, per un maschietto, non era molto bello e facile accettare che una donna lo sorpassasse gli stessi davanti. Quindi, insomma, ne ho prese tante di sportello. Non mi ricordo una gara in cui ho portato al traguardo la macchina completamente sana e lustra, come partita. Qualche botta l'ho sempre presa, però, vabbè, d'altronde, io tenevo giù il piede, non lo alzavo per far passare loro di certo. Anzi, senza cercare. Perché mi passi giù. Io tutto giù, tutto giù. Ero anche un po' folle, un po' più folle ai tempi. Poi sono diventata mamma e mi sono un po' calmata. Però, insomma, non sono una che va piano in macchina. Ebbè, giusto anche perché, insomma, diciamo, penso che siete d'accordo tutte e due. Poi, appunto, vi passerò la parola. Diciamo che per le donne nel motosport a volte bisogna andare più forti del dovuto, andare a saperne di più per far vedere, appunto, che, insomma, non si è lì per caso. Quindi, bisogna lavorare un po' il doppio. Aurora, tu che ne pensi? Sì, più che altro devi dimostrare. Perché, magari vedono una donna e dicono, ok, è qua a fare, non si sa cosa, l'ombrellina, ecco. È a fare presenza, diciamo. e da lì che però devi dimostrare che sai fare quanto, magari, il loro collega maschio. Devi dare prova. Sì, esatto. Sì, è così. Però, vabbè, poi, devo dire che il motosport è un mondo molto meritocratico, per cui, se poi vali e sei brava, vedi, ne abbiamo parlato prima, Arianna è Red Bull, quindi, anzi, Aurora, ti auguro anche a te di essere un giorno nel posto dove vorresti essere. Eh sì, eh sì, e noi te lo auguriamo insieme ad Eugenia. Eugenia, voglio parlare un pochino di numeri, ma come hai visto in questi ultimi anni, con appunto le quote rosa che aumentano a livello anche di driver, di equipaggi, nelle ruote coperte, anche nella scuola di MTS, com'è stato l'andamento delle donne, né in questi anni? Allora, ti dirò che, eh, sì, ehm, all'inizio erano tutti maschi, poi a un certo punto sono arrivate anche le ragazze, sia nei corsi ingegneri che meccanici. Non sono aumentate negli anni, ehm, però ci sono sempre state, bene o male, ehm, andiamo un po' ad annate, ci sono degli anni in cui ne abbiamo qualcuna in più, eh, e degli anni in cui qualcuna in meno. La percentuale è sempre molto bassa, ma d'altra onda è anche uno sport, eh, faticoso, no? Un lavoro anche faticoso, no? Dove ci vuole anche forza fisica, e dove è anche normale e giusto che la percentuale di donne non sia così alta. immagino. Poi, non sono di quelle che dice colonizzeremo il mondo e diventeremo le cape di tutto il mondo. Tu dici bisogna stare un po' coi piedi per terra, diciamo. Ma poi dico, ognuno deve fare il suo, è giusto così. Poi, eh, una donna sicuramente, eh, dicono che noi donne riusciamo a fare più cose contemporaneamente, no? Rispetto ai maschi. Allora, sicuramente una donna ha delle skill diverse, ecco, non dico migliori, diverse, per cui magari in certi ruoli a volte può essere, anche più efficace in determinate situazioni. Però ecco, è una cosa veramente anche tanto soggettiva, credo. Eh sì, eh sì, questo sì, in effetti è un pochino, dipende poi anche appunto dalle skill personali, che è una persona, perché magari sono anche più adatte per alcuni ruoli piuttosto che altri. Intanto leggiamo qualche commento. complimenti a Andrea Bavaresco, complimenti a tutte le donne del motorsport. Grazie. Grazie. All'Eliuzzi, ciao Eugenia, mi ricordo il corso dell'anno scorso, ogni weekend dalla Puglia su Amunza. ci sono queste storie che sono incredibili, guarda, incredibili. Mi ricordo anche un altro ragazzo che da Taranto partiva col pullman alla sera, si faceva tutta la notte in pullman e poi arrivava a fare il corso e poi ripartiva la domenica. Dimmi se non è passione questa. Direi proprio di sì, direi che è proprio una passione che vuole anche far sì che un sogno si realizzi, che poi quello che MTS, diciamo, cerca di fare, dà gli strumenti adatti per poterlo realizzare. Poi c'è Ilaria4710, ciao Lola, dalla zia e le cugine. C'è un saluto familiare in atto, non volevo perderlo, devo leggere perché giustamente, come abbiamo detto, la famiglia è fondamentale in queste attività. Ma scherzi, ma poi soprattutto i genitori, guarda, io sono molto contenta quando sento che i genitori sostengono le passioni dei giovani, perché dico sempre che se riesci a fare un lavoro che appaga la tua passione, come diceva Confucio, è non lavorare nessun giorno nella tua vita. È vero, è vero. C'è Mauro AV Ferrars, che ti dice Grande Eugenia, quindi ti saluta. E Eugenia, volevo chiederti, quante difficoltà ci sono state in questi anni per far sì che appunto la scuola prendesse piede e arrivasse appunto a questi 12 anni veramente intensi? Come in tutte le cose qualche difficoltà c'è stata. All'inizio sono stata molto aiutata dai media, devo dire, perché il progetto era un progetto nuovo, perché è nato in un momento di crisi, non c'era lavoro, era un momento difficile comunque per l'Italia. Per cui è un progetto che ha riscontrato tanta attenzione, sia da parte delle televisioni che delle riviste anche nazionali. Quindi sono stata anche aiutata all'inizio. Poi le difficoltà più grandi forse le ho trovate nella parte organizzativa, perché io sono molto precisa e puntigliosa e ci tengo che i ragazzi abbiano tutte le possibilità possibili per imparare il mestiere. La nostra scuola è una scuola, lo diciamo sempre, che ha il 75% di pratica nei corsi. So che ci sono collegati anche alcuni dei nostri studenti e non è facile fare in modo che tutti possano fare la pratica giusta. Per cui è una scuola che richiede un'organizzazione veramente molto impegnativa dietro, perché loro arrivano e trovano tutto pronto, tutto fatto. Io sono molto contenta, però... C'è un mondo da fare. C'è un mondo, perché a volte avere le moto, le macchine, l'attrezzatura, poi soprattutto nella parte auto, spesso nei weekend cambiano. Per cui negli anni abbiamo avuto dalla Formula Indy, all'LMP2, alle varie GT, moto uguale. Devo dire, lo dico, non so se c'è qualche team che ci ascolta, però io ringrazio sempre e ringrazierò per tutta la vita i team, le squadre che ci aiutano. Però ecco, forse la difficoltà più grande in questa scuola è la parte organizzativa, ma proprio perché è una scuola che cresce di anno in anno, si allarga, cerchiamo di dare sempre il più possibile valore aggiunto agli studenti per poter imparare al meglio. Io ci temo che poi loro, quando finiscono i corsi, siano i più bravi di tutti, perché se sento che un team ha preso un ragazzo da un'altra parte, all'estero, chissà dove, insomma, dico no, lo deve prendere da noi. Di scassi, giustamente, giustamente. Quindi, faccio di tutto per fare in modo che la scuola sia la migliore in assoluto. Poi non so, non posso dirlo io, lo diranno gli altri, però noi veramente, ma ho anche una squadra dietro che lavora veramente, si danno da fare, si rimboccano le maniche, quando poi, come nel motorsport, gli imprevisti ci sono anche in queste cose, per cui sono anche molto bravi a risolvere le cose, quindi sono dei bravi problem solver, no? Infatti, io dico sempre che il motorsport, diciamo, fa fare una corazza fantastica, un'esperienza fantastica sul problem solving, proprio quello che arriva due secondi prima del momento più importante, succede sempre qualcosa. Sì, sì, io ti dirò che se non avessi lavorato nelle corse, non sarei stata in grado di fare questa scuola. Eh sì, eh sì, è vero, è vero, perché comunque al di là del fatto che appunto il settore è diciamo allineato, però comunque io penso proprio che il motorsport a livello proprio di vita sia una palestra molto molto importante. e se riesci e se ti fai un'esperienza nel motorsport davvero hai quella marcia in più che ti permette di combattere sotto diversi punti di vista. Quindi c'è intanto Gabri459 che potrebbe diventare un allievo, infatti dice sto facendo tanti sacrifici per potermi permettere di partecipare, e spero di arrivarci presto. E lo aspettiamo. Noi glielo auguriamo, glielo auguriamo. Lo aspettiamo. Che ci sta seguendo. Poi c'è Davide02msc, ciao Eugenia. Ciao. E poi Federico Presutti, corsista ingegneri moto, sacrifici al momento più che gratificati, compreso il pullman notturno. Bene, continuate così. Meno male, meno male. Diciamo che i feedback ci sono e arrivano Eugenia, arrivano. Bene, bene. Parlando con Aurora volevo chiedere, invece tu a livello di appunto sacrifici, volevo sapere un po' di dove sei, se appunto ti sei dovuta spostare vicino a noi, dico noi perché anch'io sono della provincia di Milano, quindi sono vicino all'autodromo più o meno. Diciamo come sacrifici, come sei messa Aurora? Allora, io vengo dalla Spezia, in Liguria. Qualche chilometrino. Quindi diciamo che tre orette di macchina per arrivare a Monza le faccio, però sacrifici comunque grossi non ce ne sono. All'inizio avevo come idea di rimanere su a Monza, però poi diventavo un casino per l'alloggio, trovare un lavoro lì per magari un breve periodo di tempo, con qualcuno che mi desse i weekend liberi, diventava veramente faticoso. quindi faccio avanti e indietro, tranne ora il weekend di febbraio che ne abbiamo due di fila che rimango su. Però io amo guidare, quindi non ho problemi, sì. Abbiamo detto, corso moto rating, quale parte del corso ti sta piacendo di più e su quale invece hai qualche difficoltà e vorresti, diciamo, prendere più esperienza? Ma allora, con un prof l'altro giorno abbiamo preso due moto e le abbiamo fatte completamente identiche, sia a livello di assetto che di trasmissione, eccetera. E questa cosa qua mi è piaciuta tanto, proprio prendere la moto, smontarla completamente e rimontarla uguale ad un'altra. e con il motore mettere le valvole in fase, quello bisogna proprio avere occhi, eccetera. Però comunque è molto bello. Ci stiamo lavorando, diciamo, giustamente. Giustamente. Eugenia, c'è una domanda che ci permette di raccontare un po' le modalità di iscrizione, perché c'è Tommaso Cervis che ci dice sono molto interessata alla scuola, come posso fare per iscrivermi? Dunque, sul nostro sito, che è www.mtschool.it, c'è scritto tutto. C'è un iter da fare, si manda la richiesta, poi i possibili candidati vengono ricontattati direttamente dalla scuola, si possono anche visionare delle pillole formative, giusto per un po' testare le nostre elezioni, e poi comunque c'è tutto sul sito internet, trova tutto. Oh, chiaro. Quindi abbiamo dato più o meno le coordinate, perciò sul sito trovi tutto. E invece a livello di progetti per questo 2023, Eugenia, c'è qualcosa in aggiunta appunto ai soliti programmi o si prosegue diciamo con quello che è lo standard del 2022. Dunque, sta partendo adesso un Master di Race Engineering per l'India, che durerà un anno, di cui una prima parte verrà fatta online, è la seconda edizione, ma in realtà è come se fosse la prima, perché la prima che abbiamo fatto è stata un test e aveva una durata molto più bassa. Mentre adesso parte proprio il Master vero e proprio, abbiamo già le richieste per quello successivo e si farà appunto una prima parte online e una parte da noi in Italia, quindi verranno questi giovani ingegneri indiani a fare lezioni da noi e li porteremo anche in pista, perché una delle nostre caratteristiche come scuola, e penso che siamo proprio gli unici in questo, noi portiamo i ragazzi in pista e li facciamo lavorare come se fossero proprio in un vero team. Avendo sia ingegneri che meccanici, abbiamo anche la possibilità di creare varie sinergie tra di loro, per cui lavoreranno insieme in pista, dovranno imparare a rispettare i ruoli ed è una cosa che a livello formativo veramente per me è molto preziosa, perché poi quando vanno nei team, un minimo, è vero che nel motorsport la differenza, scusami, l'esperienza fa la differenza, nel senso che l'esperienza è importantissima, è un lavoro come questo, e ti continua sempre a formare. Io stessa, fino all'ultima gara, ogni giorno che andavo in pista, imparavo qualcosa in più. Ecco, ci vuole sempre, giustamente, noi lo diciamo sempre ragazzi, un atteggiamento di grande umiltà in questo mondo, e niente, quindi, insomma. C'è quello, è quello, è vero, perché poi alla fine, diciamo che adesso come adesso, c'è bisogno di un cambio generazionale, diciamo, c'è sempre bisogno di, di gente giovane nel motorsport, e c'è bisogno di umiltà, proprio perché, ci sono tanti appassionati da 40 anni, che però ovviamente devono anche fermarsi, dopo, dopo tutta questa carriera, quindi è giusto dare, dare poi lo spazio, a ragazzi pronti e preparati, appunto dalla MTS, che insomma ci mette, ci mette veramente il massimo, per, per organizzarsi. E io, Eugenia, ti vorrei fare anche un po', una domanda che guarda, un po' al passato, e un po' anche al futuro. Quello che ti vorrei fare è, se tu dovessi, diciamo, tirare una riga e dire, qual è stata la mia vittoria più grande per adesso, e il mio più grande sogno, che voglio ancora realizzare, quale sarebbe la risposta a questi due? Mi viene da pensare ad MTS. Giusto, beh, è certo, è certo. Allora, la prima vittoria, forse è stata, quando il primo ragazzo è entrato in Formula 1, dopo quattro anni dalla scuola. Ecco, quello per me è stato comunque un primo traguardo, non il traguardo, perché è ovvio che, che ce ne saranno altri, però, insomma, quando il primo ragazzo è entrato in Formula 1, per me è stata veramente una grande soddisfazione, che mi ha anche emozionato tanto. Per quanto riguarda il futuro, io vorrei colonizzare i paddock di tutti i campionati. Beh, è bella come lo scherzo. No, vabbè, mi piacerebbe, però, in realtà, io vorrei creare un po' la mecca del motorsport, cioè, creare un campus, un, non so, un punto di riferimento per la formazione nel motorsport, unico al mondo, noi cerchiamo sempre di essere unici in qualcosa, ci proviamo, in Italia, perché siamo italiani, ma comunque, con sbocchi internazionali, è aperto anche agli altri paesi. Mi piacerebbe proprio che se qualcuno in futuro dovesse avere la voglia di intraprendere una carriera nel motorsport, debba venire lì, perché, perché, è la mecca, la mecca della formazione del motorsport. Eh sì, direi che, è un po' ambizioso, però, vabbè. Beh, è una bellissima idea e ti dirò che, secondo me, io, vabbè, l'appoggio, l'appoggio completamente, anche perché, comunque, diciamo, a parte la, diciamo, la grande capacità e determinazione che c'è, oltre che all'immenso lavoro che c'è dietro a MTS, diciamo che l'Italia, secondo me, insomma, offre davvero, davvero, tra grandi marchi, tra la Motor Valley, veramente, siamo un pochettino, punto di riferimento, quindi, perché no? Diciamo, secondo me, sarebbe fattibile, Eugenia. Vediamo, vediamo, noi ci proviamo, noi ce la mettiamo tutta, sicuramente, siamo sempre molto carichi in questo, perché siamo i primi a crederci, ma veramente, ci crediamo tanto. Penso che i ragazzi lo capiscano, no? Allora, si vede, ci crediamo. Sì, sì, ci credete sia voi, che anche noi ragazzi, comunque. E me, quello lo so, sì, sì, bene, bene, sono contenta. C'è Ale Liuzzi che dice, Eugenia, ma perché non pensi di portare MTS anche al sud? Eh, no, finché i ragazzi del sud arrivano da noi. Tu dici, giustamente. Vediamo, non lo so, non escludo niente. Quello che mi sento di dire, di dire un po' in risposta anche a questa domanda, è che diciamo che la presenza di un autodromo come un autodromo di Monza è un po' fondamentale. Probabilmente purtroppo al sud non ci sono grandi impianti, diciamo. C'è Binetto, c'è Pergusa, però ecco. Sono un po' isolati. Non sono internazionali, non sono circuiti internazionali, quindi mi piacerebbe, ma non lo so, non è detto, magari vale lunga, non lo so. Sì, diciamo che quello potrebbe essere un po' il... Vedremo, vedremo, vedremo cosa succederà in futuro. Aurora, voglio parlare un po' con te invece dei tuoi sogni. Non ti dico la vittoria perché ho già capito che probabilmente la vittoria secondo me è stata la selezione. Sì, già quello è stato un bel colpo. Quindi quello l'ho preso. Però sul sogno vorrei che con noi stasera sognassi un po' ad occhi aperti, insomma. Cosa sogna Aurora anche a livello, non so, di campionato di destinazione, a livello di una gara particolare a cui dici vorrei esserci? Insomma, raccontaci un po'. Ma io già quando qualche settimana fa ci hanno introdotto il nuovo progetto con Yamaha, come mi ha detto Eugenia, si vedeva, avevo gli occhi che veramente mi brillavano. Perché io da quando sono piccola, piccola, vabbè comunque qualche anno fa, che quando mi dicono cosa vuoi fare da grande, io dico il meccanico di moto da pista. Faccio proprio l'esempio, avete presente il box di Yamaha così, e quello per me arrivare a lavorare magari in Yamaha MotoGP sarebbe veramente l'apice. Il top. Quindi per sognare in grande è questo, però mi piacerebbe comunque altri campionati per le endurance, 24 ore, e poi comunque quest'anno, nel 2022, qualcosina ho fatto. Quindi ho già un po' assaporato questo mondo. Ho sentito un po' l'adrenalina, l'adrenalina della gara, diciamo. Perché poi è anche quello un po' difficile da gestire, e diciamo che quello viene un po' con l'esperienza, con la tempistica di gara più che altro, no? Beh sì, noi meccanici siamo lì che diciamo, ok, dobbiamo stare concentrati, perché se la moto rientra nel box dobbiamo prenderla, dobbiamo vedere che problema c'è, risolverlo nel minor tempo possibile, se risolvibile. Quindi abbiamo un po' di pressione, sì, durante la gara, ma anche comunque le qualifiche o le prove. È importante ogni aspetto del weekend che inizia qualche giorno prima, insomma. L'impegno è tanto. C'è Russo2605 che intanto ci scrive un commento. Ho fatto il corso motor racing nel 2021, dopo aver fatto il trofeo a Aprilia 660. Quest'anno fare l'Europeo MotoGP, scuola veramente al top. Quindi sono bellissimi i commenti che ci lasciano. Posso dire una cosa, scusami Anna? Ragazzi, scriveteci e raccontatecele queste cose, perché noi viviamo di questo. Quindi teneteci informati di quello che fate, perché noi siamo molto contenti di seguirvi poi nella vostra carriera. Ti so che iniziano a diventare tanti, Anna. Eh, bisogna tenere poi un archivio di storie in ordine alfabetico per poi raccontare tutto quello che c'è. E perché è veramente importante per i ragazzi e le ragazze che a volte magari non sono forti come te, Aurora, e quindi alla prima volta che si sentono dire ma no, non ce la farai, si demoralizzano. Invece tutte queste storie sono proprio importanti per far sì che never give up per tutti, insomma. Bisogna buttare. Poi anche noi ragazzi quando vediamo e sentiamo comunque dei ragazzi che magari hanno fatto i miti di queste cose, le chiediamo oddio, come va, cosa stai facendo? Cioè vogliamo sapere proprio tutto. Eh sì, perché insomma solo vedendo un po' il post si può capire se è una scuola che fa al caso proprio. Perché io penso anche che comunque sai, Eugenia, dimmi poi se ho torto, a volte si avvicinano dei ragazzi e delle ragazze che poi si rendono conto magari di non farcela a livello di ritmo. E quindi magari dicono meno male che ho provato perché non avrei avuto la possibilità di capire. No, succede anche questo, ho avuto successo, ho avuto dei ragazzi che, però questo prima che andavamo in pista, ultimamente no, però che dopo due gare hanno mollato perché si sono resi conto che, insomma, il motosport non è quello che si vede in televisione. C'è un lavoro dietro di sacrifici, non ci sono orari, a volte devi dormire sul camion, ti devi fare dei viaggi lunghissimi perché magari se l'ultimo è arrivato viaggi col camionista e quindi ti fanno partire due giorni prima. Purtroppo è così, ci vuole un po' di predisposizione a questo se poi si vuole arrivare. E ci vuole anche tempo prima di avere delle soddisfazioni, ma è normale come in tanti altri settori. Bisogna avere pazienza, pazienza di fare la gavetta. E devo dire che i ragazzi di oggi non ne hanno tanta di pazienza. È quello. E lo avrò tutto subito. È quello che vale. Però è così, è così nel motosport, è così, è più troppo, è così, ma è anche giusto perché io lo trovo comunque un mondo molto formativo questo. Sì, sì, è vero. E a proposito di formazione, c'è una domanda interessante di Alexander Grosenthal. Eugenia, cosa ne pensi del processo di elettrificazione del settore? Fra dieci anni avremo bisogno di tecnici preparati sui motori elettrici? Allora, sicuramente sì, senza dubbio. Noi, soprattutto nella parte dei corsi ingegneri, abbiamo dei moduli dedicati alle competizioni elettriche. Però io confido molto nei carburanti sintetici, perché non posso pensare che le macchine e le motos stanno smetteranno di fare rumore. Sarebbe come spegnere la musica, diciamo. So che tante case ci stanno lavorando, Porsche è stata la prima, adesso hanno già aperto, insomma, hanno fatto partire già un primo progetto a questo proposito. Io penso che fra dieci anni non ci sarà solo l'elettrico, ci saranno nuove soluzioni, sicuramente altrettanto ecologiche, che manterranno vive le vecchie auto e le vecchie moto, prima di tutto. Perché che facciamo? Ne buttiamo. E poi manterranno viva sicuramente l'adrenalina che ti dà un bel rumore di quelli giusti. Quando senti la moto che fa la curva, poi apri che ha finito, non puoi lanciarci. Però ecco, anche noi ci stiamo adeguando e stiamo lavorando, anche noi comunque in quella direzione, per cercare di dare ai ragazzi comunque tutte le possibilità. Sì, perché infatti c'è Ale Luz che appunto ci ricorda che per l'elettrico c'è anche già il campionato ETCR. Sì, in effetti c'è l'ETCR piuttosto che appunto la Formula E che è all'apice. Però diciamo che, insomma, per chi è un appassionato vecchio stile, il rumore è sempre musica da non spegnere, diciamo. Assolutamente. Ecco, siamo un po' tutti tradizionali. Avvicinandoci un po' al termine di questa bellissima chiacchierata, volevo farvi una domanda ad entrambe su cosa ne pensate di questi campionati che sono nati, che stanno nascendo, si parla della Formula 1 Academy appunto nel corso di quest'anno, campionati esclusivamente di donne, quindi sia in auto che anche nelle moto, perché appunto c'è il WEC appunto che è nato. Cosa ne pensate di questi campionati solo rosa? Eugenia, parto da te. Sono sicuramente interessanti, sono sicuramente a livello, come dire, di marketing e di immagine e di sponsor efficaci. Io però sarò anche un pochino all'antica, ma penso che se una donna è brava se la può cavare benissimo anche in un confronto diretto con un uomo. Però se questi progetti danno la possibilità o facilitano il percorso alle donne di poter entrare in questo mondo, benvengano. Sì, sì, sì. Diciamo, se è un canale un po' preferenziale, dici potrebbe essere forse la strada giusta, insomma. Sì, sì, sì. E Aurora, tu cosa ne pensi appunto anche legata al fatto di, se ti piacerebbe appunto arrivare e lavorare in un campionato proprio solo quota e rosa? Cosa ne pensi di questi campionati che sono nati e stanno nascendo? Allora, io nel 2022 ho appunto lavorato per un periodo in un team che aveva una pilota che faceva la Women European Cup. Quindi ho avuto modo e sono molto agguerrite tra di loro. Sì, sono da sopra. Devo dire, sono bella grinta. Però secondo me, concordo con Eugenia, avessero anche qualche maschietto in mezzo che gli dà ancora più noia e sarebbe meglio. Ci sarebbe meno competizione proprio tra donna e donna, meno gelosia magari perché ce n'è tanta, ce n'è tanta e darebbero più gas. Comunque alla fine non sono male, sono tutte molto brave e danno il meglio di loro e comunque non è una brutta gara da guardare comunque. Eh beh, sì, sì. Ma quindi allora tu concordi un po' sul fatto che insomma un mondo completamente femminile c'è un po' troppa competizione malzana, diciamo? No, no. Niente da togliere a un team tutto femminile che è nato, non so ora quanti anni fa di preciso, però io personalmente non so se riuscirò a lavorare con sole donne. Eh, quello sì, un po' tutti gli ambienti sono... Eh, eh. Si è un pochettino più inviperite insomma, questo possiamo dire. Eh, esatto. Bisogna andare molto d'accordo e non è facile, più difficile. Eh, esatto, esatto. È un bel sogno, eh, tutte, tante donne tutte d'accordo, è dura, è dura. È dura, molto dura. C'è una domanda che è molto tecnica Eugenia, però te la passo lo stesso. Io poi mi sento già di consigliare Francesco Deltin che ce lo scrive. Vediamo se posso rispondere. Eh, di contattarvi. Perché lui parla molto del tecnico. Ho in mente di diventare un motorista, progetto, pratico, analisi, ha dei elementi finiti e conosco l'utilizzo del CAM. Oltre alle conoscenze nei motori, come posso fare? Potresti scrivere a MTS? Venire a fare il nostro corso motorista. Perfetto, quindi ho risposto. Facciamo in collaborazione con Autotecnica dei corsi per motorista racing. E ti dirò che tra l'altro da poco sono stati assunti due dei nostri ragazzi proprio in Autotecnica, quindi insomma il corso è valido, è dedicato proprio al motore. Sì, quindi poi Autotecnica è al top a livello motoristico italiano, nelle grandi categorie, perché siamo comunque, diciamo, ogni componentistica italiana, posso dire dai freni ai motori e tutto, in ogni campionato c'è una piccola impronta nostra. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi, poi c'è Nicola Palumbo, una domanda a livello burocratico, stiamo entrando un po' più nel... Per quanto riguarda i contratti di lavoro fra team e meccanici, come vengono svolti all'interno del motosport? Beh, questo è molto difficile da... Un argomento un po' ostico di cui parrare. Sì, perché la situazione cambia da team a team e da nazione a nazione. Quindi, solitamente, come dicevo prima, il motosport è un mondo meritocratico, però una persona deve far vedere che vale, quindi... e deve un po' guadagnarsi la fiducia del team. Quindi, inizialmente, non ti fanno mai un contratto a tempo indeterminato o un'assunzione vera e propria, ti mettono alla prova. Quindi, quando si entra in un team, è normale, eh? Devi un po' osservare, come dicevamo prima, avere umiltà e cercare di imparare da tutte le persone che hai intorno. Se poi vali, il team ti tiene e ti fa dei contratti di assunzione, si può anche guadagnare molto bene, però all'inizio sicuramente no. Bisogna seminare un po'. C'è un periodo di semina dopo aver, diciamo, preso la formazione ai corsi MTS, poi c'era un periodo di semina che ovviamente all'inizio porta un po', come a tutti, alla gavetta iniziale, insomma. doverosa, doverosa perché comunque alla fine si parla veramente di un settore che è il motosport, è molto importante, perché a livello meccanico, a livello ingegneristico, veramente si ha a che fare con la vita delle persone. Sì. Io dei weekend addirittura sono stata pagata a zero, per dire. Quindi andavo lì puramente per imparare, per far vedere che c'ero, che mi interessava. Altre volte mi hanno pagato giusto i soldi del viaggio, però non andavo lì pretendendo di essere pagata assolutamente. Poi io posso dire che a livello di soddisfazioni, anche a livello economico, se si è bravi poi si è completamente ripagati di tutto. Sì. Lo confermo, lo confermo. All'estero è diverso. All'estero ti fanno, è più facile che ti facciano subito un contratto, ma anche perché non possono prendere persone così. quindi non ci sono diciamo possibilità alternative. Comunque. Invece a livello, ti faccio solo quest'ultima domanda, Eugenia, io avevo sentito che appunto a livello di piazzamento poi dei tuoi ragazzi, dei tuoi allievi, si è praticamente quasi al 100%. Sì, sì, è così. Siamo circa, mi sembra, al 94% per i meccanici e il 72% per gli ingegneri. Abbiamo tantissime richieste, addirittura, non dovrei dirlo ragazzi, ma quest'anno già un team, ma c'è chi sono dieci meccanici, sono un team. di richieste ne abbiamo tante. Cerchiamo di accontentare un po' tutti, poi dipende anche dalla preparazione alla fine dei ragazzi, perché noi comunque cerchiamo di mandare tutti i ragazzi, però magari c'è qualcuno che ha bisogno di fare ancora un pochino più di allenamento, ecco chiamiamolo così. Dico allenamento perché ti manca un'informazione, Anna, sai che abbiamo la palestra della meccanica, noi? Ah, non lo sapevo questo! Quindi a livello anche, diciamo, di fisico comunque c'è? No, 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 è sempre meccanica, l'abbiamo chiamata la palestra della meccanica, perché è una sede che abbiamo organizzato con varie postazioni dove i nostri ragazzi si possono venire ad allenare su argomenti che magari hanno bisogno di approfondire un pochino di più, utilizzando dei voucher che corrispondono a determinati argomenti e il personal trainer e il tutor, quindi è un po' come una palestra però della meccanica, con un po' se c'è l'auto che moto. No, per chi è carente in determinate cose può allenarsi sempre su quella cosa. Sì. Beh, è utilissimo, è utilissimo questo, perché così almeno permette anche magari di riempire quella lacuna e arrivare a livello a livello un po' anche di degli altri o anzi superarlo magari. Certo, sì, 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 assolutamente. Comunque è nostro interesse che i ragazzi imparino bene, quindi cerchiamo anche noi di aiutarli se hanno delle lacune o comunque se hanno bisogno di fare un pochino di più da qualche parte, insomma. bene, ragazze, io, diciamo, vi ho detto tutte le domande, fatto tutte le domande possibili, immaginabili, io vi ringrazio tantissimo, tanto, tanto, ti ringrazio a te, Eugenia, che sei sempre molto disponibile e ti faccio i più grandi complimenti per tutta l'attività che avete, che state facendo e per tutto quello che date ai ragazzi giovani per agevolarli e aiutarli ad inserirsi in questo fantastico mondo. Grazie, Anna, però ci tengo di invitarti a Monza, visto che l'hai detto che abiti vicino. Sì, è vero, assolutamente. Devi venire a trovarci. Devo venire. Devo prometti. Promesso, promesso. È una promessa, assolutamente, vi vengo a trovare e vi vedo in azione che, insomma, dopo il seguirvi a livello di attività e a livello di tutto quello che c'è attorno, mi fa piacere venire di persona, assolutamente sì. E Aurora, io ti faccio i più grandi in bocca al lupo, ovviamente poi tu aggiornaci, ovviamente, su tutto quello che è, diciamo, il proseguo e anche la realizzazione del sogno che, ovviamente, diciamo, ti auguriamo e ti fiamo per te. Quindi, in bocca al lupo. Ti ringrazio ancora tantissimo. Noi, ovviamente, ci risentiamo perché teniamo sempre l'occhio fisso su MTS e sulle ragazze che, appunto, diciamo, sfondano poi nel motosport. Quindi, grazie ancora Eugenia. Grazie, grazie a te. Grazie, grazie ancora Aurora. Grazie a te. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, ai commenti che avete fatto, alle domande che abbiamo letto in diretta. Questa puntata, non vi preoccupate perché si è collegato solamente adesso ma sarà disponibile nei prossimi giorni sia sul canale YouTube e sia qui su Instagram. Intanto, vi mando un caloroso saluto e vi do appuntamento settimana prossima. Grazie ancora a tutti. Grazie. Grazie a voi. Buona serata. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.